Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione sottoscritta dai consiglieri Tommaso Bori, Simona Meloni, Michele Bettarelli e Fabio Paparelli del Partito Democratico, Thomas De Luca, Movimento 5 Stelle e Vincenzo Pianconi del Gruppo Misto, un atto emendato insieme agli esponenti della maggioranza con cui si impegna la Giunta regionale a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale oltre alla previsione di quali azioni intraprendere il servizio. La mozione approvata all'unanimità prevede che la Giunta si attivi per dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale riconoscendo le responsabilità e le conseguenze del cambiamento climatico, attivare ogni possibile contributo e iniziativa all'interno delle competenze della Regione per contribuire a contenere l'aumento della temperatura globale a un grado e mezzo come stabilito nel G20 di Roma e fissare l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas e clima alteranti entro il 2030 nonché dare massima priorità al problema all'interno dell'agenda regionale anche alla luce delle nuove emergenze scaturite dalla pandemia tenendo conto in ogni azione amministrativa degli effetti che essa comporta sull'ambiente anche garantire che le misure di contrasto, mitigazione e adattamento vengano implementate secondo i principi di giustizia climatica i costi della transizione non devono gravare sulle fasce più deboli della popolazione ma devono essere sostenuti soprattutto da chi ha causato maggiormente i danni ambientali infine attuazione della legge 113 del 92 obbligo per il Comune di riporre a dimora un albero per ogni neonato a verificare quindi che vengano effettivamente piantati tanti alberi quanti sono i nuovi nati nel territorio e infine avviare un percorso di condivisione e audizione nella competente commissione di movimenti, associazioni e organizzazioni che stanno promuovendo azioni in materia anche al fine di sviluppare la prima proposta di legge regionale sul clima L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la riforma dell'AUR l'Agenzia Umbria Ricerche ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 13 voti a favore della maggioranza due contrari, misto Movimento 5 Stelle e cinque non partecipanti al voto PD, patto civico il disegno di legge della Giunta per la modifica della legge che istituisce l'Agenzia Umbria Ricerche Il provvedimento punta alla valorizzazione dell'AUR attraverso alcune azioni strategiche viene attribuita all'Agenzia la possibilità di svolgere attività di ricerca dietro compenso anche a favore di committenza privata e di promuovere convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati come associazioni di categoria o enti locali che potranno utilizzare l'Agenzia per ricerche utili ad indirizzare le politiche a livello territoriale e che potranno portare a borse di studio e assegni di ricerca Il disegno di legge modifica la governance dell'Agenzia sostituendo l'organo del Presidente con quello dell'amministratore unico e istituisce il comitato scientifico composto dall'amministratore unico e da cinque membri esperti in ricerca e programmazione oppure in possesso di un qualificato profilo scientifico accademico Il comitato avrà il compito di elaborare il programma triennale di attività dell'Agenzia e dei singoli programmi di ricerca Viene soppressa la figura del direttore dell'Agenzia che vengono individuate e stabilite attività di controllo da parte della Giunta sui documenti contabili e programmatici dell'Agenzia La riorganizzazione del personale prevede il consolidamento del nucleo di sei dipendenti di ruolo che rimangono a presidiare le attività fondamentali e viene inserita la possibilità di un impiego di ricercatori facendo ricorso con risorse proprie o di cofinanziamento con altri soggetti ad incarichi e forme di collaborazione con finalità di studio e ricerca Per il relatore in aula di maggioranza Daniele Nicchi, Lega, presidente della prima commissione l'obiettivo è quello di garantire un'offerta di servizi sempre più efficiente e rispondente all'utenza cercando di contenere i costi L'AUR oggi è un'agenzia risanata e stabile nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale Il contributo della regione all'agenzia è passato da 750.500.000 euro La ristrutturazione delle spese di funzionamento è già iniziata con lo spostamento della sede a Villa Umbra producendo effetti significativi La relatrice di minoranza Donatella Porzi, PD, vicepresidente della prima commissione ha espresso perplessità sulla scelta di sostituire il presidente con l'amministratore unico e con quella di eliminare la figura del direttore dell'agenzia come pure sul venir meno del consiglio di amministrazione Da queste scelte, ha detto, si evince un accentramento delle funzioni su una figura di nomina prettamente politica Sembra poco plurale anche la decisione di far nominare dall'amministratore unico l'intero consiglio di amministrazione Lotta al degrado urbano e tutela dell'ordine pubblico e della salute La seconda commissione approva l'articolato della proposta di legge del gruppo Lega che modifica il testo unico del commercio Il servizio Alberto Scattolini La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini con il sì dei commissari di maggioranza e la non partecipazione al voto da parte di quelli di minoranza ha approvato l'articolato della proposta di legge promossa dal gruppo Lega prima firmataria Paola Fioroni che prevede modificazioni e integrazioni alla legge regionale 10-2014 testo unico in materia di commercio L'iniziativa legislativa, come la stessa Paola Fioroni ha spiegato se approvata dall'Aula consentirà ai comuni di contemperare il libero commercio con motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente urbano per garantire l'autonomia territoriale nella definizione dell'assetto di regolamentazione nel commercio Le modifiche mirano sostanzialmente ad inserire disposizioni più puntuali ed incisive nella normativa vigente a livello regionale in ordine all'attuazione di quanto previsto in materia di commercio dalla direttiva Bolkstein Sulla proposta di legge si era espresso positivamente in commissione anche l'assessore Michele Fioroni sottolineando tra l'altro che come principio la norma è sostenibile poiché l'obiettivo è quello di intervenire in maniera chirurgica sulle cosiddette aree sensibili Nel corso di precedenti sedute erano stati approvati due emendamenti uno di Paola Fioroni che riguarda la possibilità di prevedere per gli esercizi commerciali di vicinato nelle aree considerate sensibili un controllo preventivo e seguente da parte dell'amministrazione comunale l'altro di Stefano Pastorelli secondo il quale i comuni possono procedere all'affidamento anche in favore di società specializzate in fiere e mercati in base al codice dei contratti pubblici mediante valutazione comparativa per assicurare la migliore valorizzazione di mercati e fiere vociati invece due emendamenti di Thomas De Luca del Movimento 5 Stelle il primo prevedeva anche gli oneri aggiuntivi che i comuni possono attualmente applicare rispetto agli oneri di urbanizzazione primaria sulle grandi aree commerciali venissero destinati per i progetti vincolati alla riqualificazione delle aree marginali e dei centri minori l'altro emendamento si riferiva direttamente alle aree marginali e ai centri minori e prevedeva che le risorse provenienti dagli oneri fossero prioritariamente spese per il completamento della connessione banda larga presidi sanitari di emergenza urgenza indipendenza energetica dissesto idrogeologico Le tre commissioni di Palazzo Cesaroni si sono riunite insieme per affrontare i problemi legati al programma di alienazione di terreni e fabbricati di proprietà regionale costituenti aziende agricole ce ne parla in questo servizio David Mariotti Bianchi La prima, la seconda e la terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria presiedute rispettivamente da Daniele Nicchi Valerio Mancini ed Eleonora Pace si sono riunite in seduta congiunta per audizioni in merito al programma per l'alienazione agli attuali conduttori di terreni e fabbricati di proprietà regionale costituenti aziende agrarie Dalle audizioni è emerso come delle 42 aziende che hanno i requisiti per essere vendute a trattativa diretta 19 ricadono nel territorio del comune di San Venanzo 18 nell'Alta Umbria e 5 nella zona Sisispello Le attuali concessioni sono state prorogate al 31 dicembre 2023 questo per consentire ad Afor, Sviluppo Umbria e Regione di aggiornare la situazione delle aziende ed attivarsi per una trattativa di vendita diretta con i concessionari Il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli ha spiegato come i concessionari delle aziende agricole oramai sono parte integrante del tessuto sociale ed economico del territorio presidiandolo e valorizzandolo da oltre 30 anni grazie ad attività agricole ma anche di tipo culturale e sociale Con le alienazioni i concessionari sarebbero messi di fronte ad una scelta tra l'acquisto e l'abbandono forzato dell'azienda determinando il rischio di un depauperamento del tessuto sociale ed economico del territorio L'auspicio del sindaco Marinelli è quello di lavorare insieme per salvaguardare le attività che rappresentano una tutela per il territorio oltre che un valore aggiunto per un'area particolare come quella del comune di San Venanzo Aggiornamento del piano regionale sulla qualità dell'aria in seconda commissione l'assessore Roberto Morroni nella prossima settimana si prevede il voto dell'atto il servizio Alberto Scattolini Nella seduta settimanale della seconda commissione presieduta da Valerio Mancini si è parlato anche dell'aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria predisposto dalla giunta regionale il che ha visto la presenza in videoconferenza anche dell'assessore all'ambiente Roberto Morroni Rispetto al testo del documento che la commissione dovrebbe votare nella prossima riunione Morroni ha annunciato due emendamenti che attengono all'utilizzo di pellet certificato e alla limitazione della realizzazione di impianti di combustione nella concaternana Rispetto al primo punto, l'assessore propone lo spostamento del termine previsto per lo scorso 31 dicembre a un anno dall'approvazione del piano per dare modo alla rete commerciale di adattarsi all'approvedimento In merito alla situazione ambientale nella concaternana e al dare attuazione senza ulteriori ritardi a misure che riducano l'emissione nel settore dell'industria Morroni ha proposto di rendere immediata l'applicazione della misura che concerne le limitazioni alla realizzazione di impianti di combustione Nel testo attuale del piano era prevista una dilazione di un anno Verrebbe comunque garantita una clausola di salvaguardia per gli impianti che hanno già attivato il procedimento autorizzativo L'assessore ha fatto anche sapere che nei giorni scorsi si è svolta una riunione con i rappresentanti della Commissione europea di tutte le zone interessate dalla procedura di infrazione e che riguarda diverse regioni italiane tra cui l'Umbria, questione concaternana per fare il punto sulla questione della qualità dell'aria e valutare i risultati fin qui ottenuti e quali le prospettive In questo contesto, ha detto Morroni, è stata sottolineata la traiettoria positiva dell'Umbria a differenza di altre regioni che stentano a trovare vie d'uscita rispetto alle problematiche che hanno determinato la procedura I consiglieri regionali dei gruppi di minoranza, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico e Gruppo Misto hanno chiesto la convocazione straordinaria dell'Assemblea legislativa sul tema analisi dell'attuale conflitto russo-ucraino condanna dell'aggressione militare da parte della Federazione Russa solidarietà alla popolazione e sostegno allo Stato ucraino L'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera all'unanimità ad una mozione proposta dal consigliere Daniele Carissimi, Gruppo Lega che mira alla promozione e sostegno dei comuni nella realizzazione di iniziative di turismo accessibile e nell'adesione al progetto Bandiera Lilla con questo atto di indirizzo la Giunta regionale viene impegnata a sensibilizzare promuovere e sostenere i comuni della regione con particolare riguardo a quelli che rappresentano mete turistiche di particolare interesse nell'avvio di iniziative e progetti di turismo accessibile incentivando nella candidatura alla rete dei comuni Bandiera Lilla onde contribuire al rilancio dell'economia regionale e allo sviluppo di una società inclusiva L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità anche la mozione presentata dal consigliere regionale Vincenzo Bianconi gruppo misto con cui si impegna la Giunta a sollecitare azioni del governo e attivarsi direttamente con tutti gli strumenti a sua disposizione per sostenere tutte le imprese Umbre con particolare attenzione a quelle più colpite dalla crisi sanitaria dal caro energia e materie prime collocate nelle aree interne ed ex aree industriali al fine di fornire le garanzie necessarie per contrarre mutui utili ad arginare la loro crisi di liquidità e per poter partecipare a bandi pubblici regionali, nazionali, PNR e altri europei volte ad aumentare la loro competitività e verso la transizione ecologica L'Assemblea Legislativa ha approvato a maggioranza la mozione presentata dai consiglieri della Lega Stefano Pastorelli e Paola Fioroni che impegna la Giunta a intervenire sul sistema dei codici Ateco identificativi della filiera delle imprese che operano nel settore turistico all'esecutivo regionale viene chiesto di attivarsi presso tutte le sedi istituzionali competenti e ad operarsi nei modi ritenuti più opportuni affinché sia inserito un codice alfanumerico integrativo ai codici Ateco delle attività economiche che esercitano nei pressi dei centri storici all'interno di essi o di aree di interesse storico-paesaggistico-culturale e che permetta alle imprese di essere identificate come appartenenti alla filiera turistica anche al fine di salvaguardare il tessuto socio-economico delle nostre città d'arte o santuario in un'ottica di rilancio di tutto il comparto del turismo e in previsione di ulteriori ristori e sostegni da parte del Governo nazionale Il Comitato di Controllo di Palazzo Cesaroni presieduto dal consigliere Thomas De Lucca sta verificando l'attuazione delle norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate Quella attuale è una fase transitoria perché il piano dei rifiuti e il piano d'ambito non sono ancora stati approvati Al termine della relazione da parte degli uffici il Comitato ha deciso di fissare un'audizione per ascoltare l'assessore regionale all'ambiente Roberto Morroni e i tecnici della Regione Anche per questa edizione è tutto Vi ricordo TeleCRU va in onda sulle emittenti radio-televisive della Regione è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria e naturalmente su YouTube Grazie per la vostra attenzione Arrivederci